La soppressione della prefettura di Sernia comporterebbe gravi conseguenze. Oltre a far saltare un presidio a tutela della legalità e della sicurezza, con il conseguente depotenziamento delle forze dell'ordine, il territorio, già a rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, diverrebbe un sicuro rifugio per la malavita. Al tempo stesso si perderebbe un punto di riferimento in una terra ad alto rischio sismico e idrogeologico e anche l'accoglienza dei migranti ne risentirebbe, mentre lo spostamento dei servizi a Campobasso non solo finirebbe per impoverire ulteriormente il territorio, ma non comporterebbe alcun risparmio. Questo in sintesi il contenuto del documento scaturito dall'incontro che si è tenuto a Sernia e in contemporanea nelle altre 22 prefetture a rischio e dal quale prenderanno spunto i prossimi incontri fissati con il governo per scongiurare questa ipotesi. Qui viene messa a rischio la democrazia stessa e la partecipazione democratica dei cittadini. Pertanto il sindacato a livello nazionale sta facendo una forte azione con il ministero pur di scongiurare questo smantellamento. Smantellamento che poi avviene in un momento particolare della realtà isernina nel momento in cui viene riconosciuta l'area di crisi. Quindi da una parte c'è il riconoscimento dell'area di crisi per garantire la massima occupabilità, ma dall'altra parte si smantella la prefettura e si mandano a casa i lavoratori senza sapere, senza capire quale sarà il futuro anche di questi lavoratori. I paradossi sono tanti. Pensiamo a quando potrebbe essere risparmiato piuttosto che con la chiusura della prefettura attraverso altri tagli che sono quelli della lotta agli sprechi, allevazione fiscale, la lotta agli sperperi, ai costi della politica, tutti temi che non vengono presi in considerazione. Oltre ai rappresentanti dei sindacati all'incontro hanno partecipato tra gli altri anche il segretario provinciale dell'Udc Domenico Itzi e l'euro parlamentare Aldo Patriciello. Dobbiamo far capire a livello nazionale il significato del mantenimento della prefettura di Serna. Non è una difesa di campanile o di bandiera, è una difesa di un territorio che necessita di una prefettura perché sappiamo bene che dopo la prefettura il rischio è ancora più grave perché la prefettura con la chiusura in effetti innesca un meccanismo a cascata di chiusura di altri uffici dello Stato. Iserne già di per sé oggi vive, la provincia, di una difficoltà economica dovuta alla chiusura delle grosse aziende. Se perdiamo l'unico baluardo che è lo Stato presente su questa provincia, su questo territorio, significa veramente dobbiamo preoccuparci per il mantenimento anche della regione molise e far capire che Isernia, così come si è derogato per l'Umbria e per la Basilicata, bisogna derogare proprio per il Molise.